Beh, aver avuto qua l'associazione Giochi Antichi per noi è stato un piacere enorme, anche perché diciamo, tra le varie festività del paese ci sono le feste minori e le feste maggiori, quindi magari c'è stata sempre una festività che ha sopravvalso l'altra. Mentre con l'associazione Giochi Antichi anche il palo della Cuccagna, diciamo, è uscito fuori dagli schemi, tra virgolette, e quindi è dato voce a una piccola festività che magari veniva festeggiata o solo qui in paese e chi dei piccoli comuni che magari sapevano che a Montescagliosa veniva questo e si avvicinavano quel giorno qui. Magari oggi con questo discorso dei Giochi Antichi e magari rientrare nel discorso delle varie reti a livello nazionale abbiamo potuto dar voce a un piccolo evento che può sempre farsi di ingrandirsi e dare opportunità a tanti giovani di avvicinarsi a questa tradizione e quindi pensare di fare nuove squadre, nuove iniziative per il palo della Cuccagna. Quindi ecco il fatto anche di trasmettere queste tradizioni, in qualche modo il fatto che altri da fuori vengano a, diciamo, interrogarvi, magari è un aiuto di riflessione. Sì, 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 è un aiuto di riflessione e anche, diciamo, va a perfezionare quelle piccole cose che magari negli anni si trascurano oppure non si dà peso. Magari con questo, diciamo, prepararsi ad accogliere qualcuno che viene per scoprire quell'evento e di farsi di perfezione la cosa nei miglior dei modi. Ecco, rispetto ai giovani, perché in effetti è una tradizione poi che riguarda i giovani sostanzialmente, perché senza i giovani maschi che hanno la capacità, no? Atleti, direi. Cosa ne pensi di questo? Ecco, penso che anche per il discorso del ritorno che facevamo poco fa. Credo che, diciamo, la base per portare avanti, anche da oggi a un anno, proprio queste piccole tradizioni sono proprio i giovani, diciamo, perché comunque, diciamo, hanno più tempo libero per protesto e dedicare, hanno più mente fresca e proprio c'è una la forza per poter anche partecipare a questo tipo di manifestazioni. Quindi il discorso di far avvicinare tanti dei ragazzi a queste tradizioni dovrebbe legarsi anche al discorso di volontariato, far volontariato per far sì che il tutto venga mantenuto negli anni. Certo, sì, perché il tema del volontariato è fondamentale. È fondamentale. Perfetto, va bene? Sì, grazie. Questa suona alle.